allora in questo video voglio mostrarvi come faccio di solito lo chignon è una pettinatura molto semplice da fare davvero io ci metto tipo tre minuti allora innanzitutto mi servono una spazzola e due due elastici ecco io vi ho fatto una coda a altezza media non troppo alta ok quindi io adesso parto col tutorial e vedrete insomma a video come faccio a farlo ok a a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.